Sì, sì. Adesso! Devi tornare, umano! Prova con questa! Eh, Pasha? Un aiutino? Andiamo! Speriamo sia una cosa con le ali. Sì! Stiamo volando! Se continui a scegliere tu, non ne usciamo vivi. La prossima la scelgo io. Per me va bene. Davi quella! Non dire nulla. Presto, svuotate il canale! Apre la bocca! Sono tornato! Lava, evviva! Eh, già. Sono laggiù! Prendeteli! Forza, ragazzi! Tanto peggio di così! Ecco, ne sono rimaste solo due. Una deve essere quella giusta. Questa la prendo io. È quella giusta. Tornerai un essere umano. Togli quella di dosso, no! Fossa via! Bevi la pozione! Ecco, ecco. Che fine ha fatto? Dove è finita? Stai cercando questa? Questa è la mia voce? E questa è la mia voce? E va bene? No, no, non farò cadere! Non voglio farla cadere sciocco. La voglio bere tutta d'un fiato. E quando avrò riacquistato le mie vere, meravigliose sembianze, finalmente ti accederò! No, no, non farò cadere!